Salve amici e bentornati nella mia bottega. Da oggi nel mio canale si apre per voi una grande opportunità. Io da sempre ho ottenuto una scorta di video in modo che se avessi avuto dei problemi per cui per qualche tempo non avessi potuto produrre nuovi video avrei potuto comunque continuare la mia attività su YouTube in maniera indisturbata. E questa è stata una fortuna lo scorso inverno quando ho effettivamente avuto grossi problemi di salute ma l'attività sul canale non è mai diminuita. Ho sempre continuato a pubblicare due video al mese o meglio un video ogni due settimane. Quindi in quel caso ho consumato parecchi di questi video di questa scorta. È un po' diminuita ma ora è tornata a crescere e sono arrivato a superare i 20 video di scorta. E così ho deciso di attivare gli abbonamenti e chi è abbonato avrà la possibilità di vedere con un'ampissima anteprima che presto arriverà a superare l'anno perché questi video di scorta stanno ancora aumentando e quando avrò superato i 24-25 video supererà anche l'anteprima di un anno di anteprima. Quindi spero entro il mese di settembre di arrivare a 30 video. Quelli che ho per ora ve li metto qua così potete vedere tutti i titoli di quelli che ho ad adesso. e quindi ci sarà un'anteprima che andrà a superare l'anno appunto di tempo e la possibilità di vedere i miei video senza il fastidio della pubblicità. So che è un grosso fastidio ma purtroppo senza di quella farei tutto questo lavoro completamente a gratis. Invece ecco con questa opportunità potete non avere nessuna interruzione pubblicitaria. Questa è una cosa che avrei voluto attivare già da inizio anno però appunto per i problemi che ho avuto non è stato possibile. Ora sono ritornato sulla ventina di video di scorta entro settembre come dicevo conto di superare i 30 ma anche superati i 30 andrò oltre e ce ne saranno sempre di più e quindi avrete questa grande possibilità. Che cifra andrà a costare l'abbonamento? L'abbonamento YouTube mi mette a disposizione degli scalini io non potrei ad esempio attivare un abbonamento a 4,50€ perché YouTube non prevede un abbonamento da 4,50€ o 6,20€. ci sono degli scalini io penso di attivare l'abbonamento a 4,99€ che sarebbe 5€ chiamato in un'altra maniera di questi 5€ il 45% se li tiene YouTube quello che resta ci debbo pagare le tasse per cui non mi resterà tantissimo ma decisamente rimane qualcosa che mi aiuterà ad andare avanti, a fare sempre meglio, video sempre migliori e andare avanti con questo canale nel migliore dei modi. Sul fatto che YouTube si tenga il 45% ho qualcosa da ridire per il fatto che trovo giustissimo che guadagna sulla pubblicità che mette nei miei video perché appunto io mi impegno a creare i video e guadagno qualcosina loro si impegnano a trovare la pubblicità e anche loro guadagnano qualcosa per il loro impegno e questo lo trovo giusto ma sugli abbonamenti è una cosa che loro non gli costa nessun impegno, non gli costa nulla per cui vanno a prendere dei soldi io avrei potuto attivare abbonamenti a un costo più basso quindi sarebbe stato molto più facile per voi sopportare il costo e guadagnarci la stessa cifra così ecco 5 euro non è una grandissima cifra è praticamente una colazione al bar quindi non è un costo eccessivo però sarei stato felice poter attivare una cifra più bassa comunque ecco ora lo sapete quelli che avete visto qua sono tutti i video che sono ad ora quindi la metà di agosto sono ora disponibili ma entro settembre ne diventeranno quasi il doppio per cui e aumenteranno sempre di più per cui spero che molti di voi avranno piacere di cogliere questa occasione e per cui nulla quello che dovevo dire ve l'ho detto quindi arrivederci al prossimo video e spero che questo vi faccia piacere ciao ciao